E gli ha tolto qualcosa terribile di acciaio che teneva il collo, ok, quindi, cioè guardatelo, vieni, dobbiamo vedere se riusciamo ad andare fuori in diretta, eh, una trottolina, vieni Osso, Osso, la cosa bella è che non mi sento, io continuo a parlarci, ma faccio l'uguale con mamma, Osso, more, dai che Candy sta mangiando, lascia, se io poi parlo con me, con gli umani. Vabbè, almeno, forse capisce più l'animale sordo, amore, dolce, 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 allora, vabbè, forza dai, adozione per Osso, io non posso fare, cioè anche col collarino verde, cioè vi rendete conto che è un fighissimo, io non posso fare foto, mi dispiace, c'è veramente soltanto video e ancora per un po', ok, ciao, Osso, vieni fuori. Dai, dai Osso, corri, 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 sta mangiando un casino e questo vi può soltanto fare bene, qua chiaramente ha qualche difficoltà, però un poco alla volta, vieni Osso, vieni, vieni Osso, vieni amore, vieni a mamma, vieni, vieni a mamma, vieni. Vieni, la cosa bella che non mi sento, bisogna sentire il mio odore, vieni, 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 senza guinzaglio, vieni, sta solo, vieni. To, 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 qua, 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 questi occhi, beh, ci sono andate a sola, te ne faranno ragione, sì, adesso mi annusi, sono sempre io, guardate come scatta, perché lui, Mi piace il suo smalto rosso? Ho deciso di voltare pagina grazie al sostegno di persone meravigliose che veramente mi hanno tolto dai guai, i guai seri. Ok, allora lasciamo al chiodo invece dei debiti, almeno ad oggi, lasciamo al chiodo un terribile collare di acciaio di questa anima, sperando di salvarne tante altre.